se chi nelle prime file si sente disturbato dall'amplificazione che è sempre molto forte se ne vada magari nel perché per ora non possiamo regolarle bene abbiamo siamo così c'è molto molto eco quindi chi dà fastidio la salente molto alta si mette un pochettino va bene alleluia ci siamo come è stata sentite caldo avevo notato un prima di iniziare un versetto molto molto bello sapete durante la settimana ci riempiamo di tutto ciò che ci raccontano i telegiornali tutto quello che succede nella vita nella vita quotidiana noi ci facciamo un bagaglio di brutte notizie dovrebbero fare un telegiornale solo di buone notizie ma purtroppo non lo fanno solo cattive notizie una vecchietta poverina mentre usciva per pagare le bollette viene uccisa rapinata e poi non vi racconto nient'altro chi si annuncia di essere gay alleluia ma ci sono delle bellissime notizie che vengono raccontate da un libro meraviglioso un libro che sicuramente voi conoscete si chiama la bibbia alleluia ci sono centinaia e centinaia e migliaia di buone notizie che dovremmo leggere ogni giorno ogni giorno prima magari non abbiamo non abbiamo tempo non abbiamo ancora questa questa cosa di iniziare magari la giornata leggendo una bella notizia che ci viene raccontata dalla bibbia ma ce n'è una che la voglio leggere ora in questo momento che è tratta dal vangelo di giovanna capitolo 10 dal dal 14 se qualcuno magari se giorno lo vuole mettere stavolta mi sono portato la bibbia gli occhiali dice così io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me come il padre conosce me io conosco il padre e depongo la mia vita per le pecore io anche delle altre pecore che non sono di questa ovile anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi saranno un solo greggio un solo passore per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo nessuno me la toglie ma la depongo da me da me stesso io ho il potere di deporla il potere di prenderla di nuovo questo comando ricevuto dal padre mio ce n'era forse era in prima dove dice che io ho tutti nelle mie mani e nessuno le può rubare dalle mie mani quale 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 versetto era pastore la bibbia era 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 nel capitolo 10 vabbè l'avete capito dai la buona notizia è che dio tiene i suoi nella sua mano e quale bella la notizia sapere che dio è per noi e ci tiene addirittura nella sua mano nessuno ci può rapire dalla mano di dio perché lui ci ama perché noi abbiamo scelto di fare questa vita di essere per dio di vivere con dio e di essere custoditi da dio ecco per questo dio che si definisce il suo definisce pastore tiene le sue pecore che siamo noi nelle sue mani e questa è una grande una grande bella notizia sapere che dio ci custodisce continuamente e siamo qui per ringraziarlo questa sera siamo le nostre mani alleluia alleluia e di una bontà che noi non conosciamo perché noi non riusciamo ad amare come dio ci ama noi siamo degli esseri limitati abbiamo l'amore limitato ma dio è limitato a un amore straordinario grande immenso e noi ti benediciamo dolce meraviglioso papà grazie perché ancora questa sera possiamo essere qui grazie perché tu ci riempi questa sera di buone notizie e la bella e meravigliosa notizia che tu sei qui questa sera e sei venuto per noi per darci tutto di quello che noi abbiamo di bisogno il mondo non può darci nulla se non cose cattive perché chi governa questo mondo è cattivo per natura ma tu che sei il nostro signore che sei il nostro dio sei venuto per fare del bene solamente del bene e noi ci aspettiamo questa sera la tua presenza straordinariamente meravigliosa che lo spirito santo possa completamente rivestirci della sua benedizione noi ci aspettiamo una serata straordinaria che passeremo qui in questo luogo stravolgendo le nostre vite potendo contare e lodare il tuo nome sapendo che tu sei qui e sapendo che ci riempi della tua unzione e per questo ti diciamo grazie padre nel nome di Gesù amén alleluia e ti diamo un bellissimo benvenuto signore con un bellissimo applauso alleluia grande sei Gesù meraviglioso è il tuo nome grande grande gloria e il tuo nome board è il tuo nome Tutto il creato, ogni nazione, piano di al nostro Signore, gloria e l'onore, forza e potenza, piano al nostro Signore, tutto il creato, ogni nazione, piano di al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria Sua adorando confesserà il Suo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il suo regno mai finirà, oh nostro Signore. Gloria e l'onore, forza e potenza, piano al nostro Signore, tutto il creato, ogni nazione, piano di al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria Sua adorando confesserà il Suo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il suo regno mai finirà, oh nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. C'è nessun altro che pari a Lui, c'è nessun altro che pari a Lui, c'è nessun altro che pari a Lui, cambia ma nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria Sua adorando confesserà il Suo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il suo regno mai finirà, oh nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui, non c'è nessun altro che pari a Lui, cambia ma nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria Sua adorando confesserà il Suo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il suo regno mai finirà, oh nostro Signore. E Gesù è il nostro Signore. Gesù è il nostro Signore, non c'è nessun altro che pari a Lui, cantiamo al nostro Signore. I cieli e la terra proclamano, Gesù è il nostro Signore, non c'è nessun altro che pari a Lui, cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è Sua, adorando confesserà il suo nome e la Chiesa proclamerà per sempre. Il Signore mai vi ne avrà, il nostro Signore, Gesù. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do la mia vita e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mia mano e dal Padre mio. Alleluia, 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 ti adoriamo Signore, ti adoriamo con tutto il nostro cuore, ti adoriamo Padre, ti adoriamo Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia 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 Tu sei santo Tu sei santo Tu sei santo Tu sei santo Alleluia 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 Forse non l'hai mai fatto nella tua vita. Questa è una sera particolare. Dio è qui e si è presentato per te, solamente, propriamente per te. Forse non l'hai mai conosciuto, non l'hai mai sperimentato, la presenza di Dio nella tua vita. Perché sei stato un tradizionale, una tradizionale. Hai sentito solamente parlare di questo Dio lontano, che bisogna pregare in silenzio. A Dio piace il rumore della tua voce. E piace quando gli parli a tu per tu. Semplicemente, non con preghiere formulate a memoria, che non hanno importanza, ma la tua, la tua voce, con le parole che escono dal cuore, dal tuo cuore. E quelle che Dio ama sentire. E questa sera lo puoi fare, puoi chiudere i tuoi occhi e dialogare con il Signore, dialogare con Dio, dialogare con questo Dio straordinario che ci ha detto questa sera che nessuno può mai rapirci della sua mano perché Egli ci custodisce, perché Egli ci ama. Ci ama. Ci ama così tanto da morire, da morire sulla croce. Vuoi che la tua vita cambi? Vuoi che tutto quello che il diavolo ha rotto nella tua vita si possa riconfermare, ricompattare, risistemare? Dialoga con Dio questa sera. Dialoga con il Signore. Dì, Signore, sono stato lontano da te. Nessuno mi ha mai parlato di te, ma adesso ho scoperto che tu esisti veramente e sei qui. Io credo che sei qui questa sera. E so che può succedere qualsiasi cosa. Perché sei un Dio straordinario, meraviglioso. So che per te nulla è impossibile. Io ti adoro con tutto il mio cuore, Signore, questa sera. E so che... So che vuoi benedire tanti qui, in questo luogo. So che vuoi cambiare il cuore di qualcuno questa sera. E lo farai sicuramente perché sei un Dio che sprigiona un amore straordinario. Il tuo odore, l'odore della tua presenza è qui, in mezzo a noi. E' più bello, è più bello di tutti i fiori di questa terra messa insieme. E gli angeli con le sue ali lo stanno spargendo in questo luogo. E' come un ciclone che gira attorno a noi. Alleluia. E c'è come una maestosa aquila che sta girando sopra di noi. E con la sua dolce voce ti sta invitando e ti dice vieni, vieni e sali sopra di me. Voglio portarti lontano nel terzo cielo. Voglio farti scoprire cose che non hai mai scoperto. Alleluia. Glorioso sei Signore. Glorioso sei Signore. Alleluia. 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 E poi mi spingo in alto più su di quanto ho fatto mai. Di quanto ho fatto mai. Adoro adorarti, Signore mio Ti vedo da lontano, corro E tu mi corri incontro E solo nel tuo abbraccio Io comprendo perché ti amo E tu sei lì, sei dentro di me Sei fuori di me Sei ovunque, Signore Dio Adoro adorarti Adoro adorarti, Signore mio Allargo le mie braccia Ma non trovo i tuoi confini E poi mi spingo in altro E su di quanto guardo mai Di quanto guardo mai E vorro adorarti, Signore mio Ti vedo da lontano, corro E tu mi corri incontro Solo nel tuo abbraccio Io comprendo perché ti amo E tu sei qui, sei dentro di me Sei fuori di me Sei fuori di me Sei ovunque, Signore Dio Adoro adorarti Tu sei qui, sei dentro di me Sei fuori di me Sei ovunque, Signore Dio Adoro adorarti Adoro adorarti E tu sei qui, sei dentro di me Se fuori di me Se fuori di me Sei fuori di me Sei ovunque, Signore Dio Adoro adorarti Adoro adorarti Signore mio Allargo le mie braccia Ma non trovo i tuoi confini E poi mi spingo in alto Più su di quanto ho fatto mai Di quanto ho fatto mai Adoralo, adora il Signore Adora un'altra lingua Come ti viene meglio Ma adoralo Adesso Ora Lo Spirito Santo sta mettendo la sua mano Sopra qualcuno questa sera C'è qualcuno che in questi giorni È in pensiero per degli analisi Per dei risultati che deve ricevere Sappi che Dio Si sta prendendo cura di te Non temere Tutto andrà bene Alleluia Alleluia C'è qualcuno che soffre di formicolio Alle mani e alle braccia Per problemi di circolazione Il Signore Il Signore ti vuole guarire questa sera Se hai questo problema Metti le tue mani in alto questa sera Alza le tue mani Alleluia Dio ti vuole guarire Glorioso Dio Glorioso Dio Glorioso Dio Glorioso Se Signore Shurekensa Shurekensa Alleluia 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 Shurekensa Grazie a tutti. Gerlando viene avanti, preghiamo per tutti coloro che sono nel bisogno in questo tempo, focalizza mentre preghiamo una persona che ha bisogno di essere guarito, di essere liberata, ma focalizzalo nella tua vita come se fosse qui questa sera, qui dinanzi a questo pulpito e possiamo tutti quanti pregare per la sua guarigione. Alleluia. E noi ti diciamo grazie Signore. Grazie per la tua presenza in mezzo a noi stasera. Ti diamo libertà, oh Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito. Muoviti in mezzo a noi stasera. Tocca ogni persona che è qui presente, oh Signore. Tocca ogni cuore. Tocca la nostra anima che ha bisogno di essere liberata da ciò che è l'opprimo, Signore. Tocca il nostro Spirito, ancora una volta vivifica, oh Signore. Il nostro Spirito che è turbolento. Ogni giorno, Signore, si trova a combattere contro le insidie del maligno. Ma abbiamo sperimentato la tua vittoria, oh Signore. Perché tu sei con noi. E ogni giorno ci dai vittoria, Signore, sulle difficoltà della vita. Perché tu sei il Dio con noi. Il Dio per noi. Sei l'Emmanuele. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Grazie perché sei risorto dai morti. Sei il vivente. E siamo nella gioia perché vogliamo adorarti, oh Signore. Troviamo gioia nell'adorazione. Perché tu sei con noi, oh Signore. Benedici questa serata ancora una volta. Ogni fratello, ogni sorello, Signore. Possano ricevere benedizione, Signore. Perché tu provi gioia nel benedire i tuoi figli. Che sono riuniti nel tuo nome. Che sono qui per adorarti, oh Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Grazie perché stasera non andremo a casa a mani vuote. Ma riempirà il nostro cuore di gioia, oh Signore. Alleluia. Grazie perché anche stasera possiamo sperimentare il meraviglioso amore con cui tu ci hai amati, oh Signore. Dandoci guarigione. Dandoci libertà di spirito di poter muoverci in questo mondo, Signore. A testa alta perché siamo figli del Dio altissimo. Alleluia. Gloria a te, Signore. E ancora ti chiediamo di benedire la tua parola, Signore. Noi sappiamo che attraverso l'ascolto della tua parola possiamo essere liberi ma possiamo crescere anche nella fede. vogliamo essere sostenuti dalla tua parola, oh Signore. E vogliamo essere guidati dal tuo santo spirito. E ti preghiamo anche per il pastore, oh Signore. Che la tua unzione sia su di lui. Affinché la tua parola possa penetrare nei nostri cuori per portare frutto, Signore. E fare luce nelle tenebre, oh Signore. Affinché le tenebre possano ricevere la tua luce ed essere illuminati, oh Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Sei santo, Signore. E ancora grazie, oh Signore. Perché anche stasera ci dai l'opportunità, oh Signore, di poter dare con gioia le nostre offerte e le decime, oh Signore. Benediceli grandemente. Affinché questo luogo, Signore, sia completato per la tua gloria. E un giorno sarà pieno di anime che saranno redenti, oh Signore. Che loderanno il tuo nome. Che glorificheranno il nome dell'Eterno. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Amen. Con te ora so che tu sei per me il respiro che mi dà vita e tu riempi il mio cuore io ti indanzerò tu ritornerai io ti aspetterò sei tu Gesù sei tu Gesù per sempre canterò ti amo, ti amo 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 A me ci sta un bel applauso a Gesù Alleluia Gloria a Gesù Alleluia Amen Invitiamo al pastore Continuando con un altro applauso Alleluia Gloria a Gesù Che bello stare alla presenza del Signore È vero? Alleluia Allora prima di passare alla parola di Dio Se si può togliere un po' di eco Capisco che Però comunque questo è l'ultimo culto che stiamo facendo qua dentro Ritorniamo alla base Completiamo e torniamo quando è tutto sistemato Prima di fatti vi do un po' di comunicazioni Da domani Vado per ordine così non dimentico nulla Domenica prossima io e mia moglie non ci saremo Saremo nella comunità del pastore Alberto Toto a Sciacca Siamo stati invitati lì a predicare Quindi però la chiesa c'è Va bene? Quindi però sappiate è giusto che comunico quando non ci siamo pure Poi ancora ci stiamo trasferendo là dentro per fare lavori qui Qui diventerà un cantiere Da domani si comincerà a smontare solo sedie Quindi là dentro ci un po' stringeremo Ci adatteremo Non porteremo di nuovo tutto lì Quindi si darà sospeso il servizio video Verrà sospeso momentaneamente Riprenderà quando ritorneremo qua dentro Perché non possiamo smontare di nuovo tutto Il mixer rimarrà tutto qui pure Porteremo soltanto qualche strumento all'altra parte Così abbiamo fretta di ritornare pure E quindi per quanto riguarda il servizio bambini Vi chiedo di fare un po' sacrificio ai genitori Di portare qualcosa per i bambini Che ne so Per disegnare Ve li tenete vicini Perché qua dentro sarà un cantiere Quindi non ci sarà spazio neanche di poter venire qua dentro Quindi chiediamo soltanto di collaborazione Prima di ogni cosa con la preghiera Poi ancora con il sostegno anche disponibile Abbiamo fatto un gruppo su whatsapp Per quando si chiama lavori chiesa Così magari pensavo pure Dico casomai lo mettiamo sul gruppo chiesa Quindi invece di fare un altro gruppo Così comunichiamo con tutti Così magari se c'è un giorno che dobbiamo venire Lo comunichiamo Perché a volte possiamo avere Dei momenti dove si lavorerà Dove non si lavorerà E ognuno che è disponibile Può comunicare Io ci sono Posso venire un'ora Posso venire due ore Posso venire un giorno Questo giorno non ci sono Eccetera eccetera Quindi faremo questo gruppo Poi stiamo facendo che cosa? Stiamo facendo una cosa incredibile Stiamo completando qua dentro Il termine ultimo è fine di febbraio Però qualcuno mi diceva oggi Ma ce la facciamo entro Natale? Ci possiamo provare Che dite? Io stamattina ho avuto Un incontro con il gestista Ci siamo messi d'accordo Per fare queste pareti laterali Abbiamo Il favore di Vini non manca Non vi dico la verità Abbiamo trovato un tessuto Per quanto riguarda Fare le tende Tutta la scenografia qua Le tende da tutte le parti Sulle finestre Abbiamo trovato un prezzo Incredibile fratelli miei Quando il favore di Vini Ma un tessuto Proprio da palco Ignifugo A forno assorbente Bellissimo il colore Che cercavamo noi Su internet si parla Da più di 30 euro A salire al metro Noi l'abbiamo trovato Siamo andati per trovarlo Al mercato di Favara Incredibile L'abbiamo trovato Nel discorso Tanto che abbiamo fatto l'ordine L'abbiamo trovato Alla fine A 8 metri 8 euro scusate Al metro per 3 Significa Striscia di 3 metri Cosa sono queste? Non sono favore di Vini? Chi lo vuole vedere Il tessuto Abbiamo un campione Là in fondo Però adesso Facciamo vedere Una cosa Lillo stanotte Non ha dormito Per farvi vedere Come verrà L'effetto finale Qui ci sarà un palco Di 80 centimetri Per Arriverà sotto Trave 80 centimetri alto Per 13,50 Sì sì Spegnete le luci Così si vedrà pure Guardate Questo sarà Quando sarà finito Praticamente Tutto tende Il palco Quello 80 centimetri Ci sarà pure Un pianoforte Che il signore Ha provveduto Anche un pianoforte A coda Bianco Poi le tende Vedete le finestre Lì La scritta Gesù è libertà Che la sta preparando Il fratello Enzo Salamone E già quasi Sta finendo La metteremo Dall'altra parte Qui ci verranno Da questa parte Tende Che ve ne sembra Guardate Questo è l'effetto finale Lo ha elaborato Tutto in 3D Lillo Sorcia Logicamente Chi poteva farlo Se non lui Stanotte non ha dormito Per farlo Farcelo vedere stasera E quindi da domani Si smonterà qui Adesso Avete visto Possiamo accendere le luci Vi piace? Un blu bellissimo Cioè Molto classico Che non passa mai di moda Molto bello E poi Un tessuto Favolo Meraviglioso Se vuole vederlo Alla fine c'è un sacchetto Là in fondo Potete toccare il tessuto Va bene? Ed è E sono favori divini Anche questi Quindi Questa settimana Che viene Smonteremo le sedie Soltanto porteremo le sedie Dall'altra parte Le cose che rimangono Qui li bocchieremo al centro Li copriremo E poi La settimana successiva O giù Deliverà Il gessista Per fare i lavori Questa parete E quest'altra Quella in fondo La faremo col Celenit Farebbe un materiale Fonoassorbente E quindi E poi faremo pure Il pavimento Non vi dico Quanto costa tutto Perché altrimenti Già Ma costerà Però Io Confido Nella grazia di Dio E confido Che ve lo dico sempre Voi siete generosi Io profetizzo su di voi Sulla vostra generosità Il Signore ci darà Di poter realizzare questo Nell'arco Di Anche perché accorceremo i tempi Di breve tempo Perché noi volevamo fare tutto in Celenit Quindi dovevamo montarlo tutto noi Costava molto di più Rispetto a come lo stiamo facendo Così verrà molto più bello Però il gessista Farà dei lavori Che noi dovevamo fare Col Celenit Ci avevamo impiegato Settimane 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 Lui in alcuni giorni Se lo finisce Quindi accorciamo anche i tempi Pregate per questo progetto La dedicazione Vi ricordate L'abbiamo a febbraio Stiamo puntando a questo Quindi prima di febbraio Dobbiamo finirlo Però qualcuno mi diceva oggi Ma ce la facciamo per Natale Voi che dite? Ci proviamo? E poi a febbraio Facciamo a marzo La dedicazione Ok? Questo è quanto Adesso Quindi lavoro in Chiesa E poi un'altra cosa Ancora Per quanto riguarda Porte Aperte La Chiesa perseguitata C'è Giona che ormai È entrato In quest'ottica E mi assilla Mi assilla La mia assilla Nel senso buono del termine Mi diceva che praticamente Siccome in Nigeria In Nigeria hanno chiuso Quante migliaia di chiese? 13.000 chiese? Hanno chiuso 13.000 chiese cristiane Perché c'è stata una persecuzione terribile Tanti sono andati a finire in carcere Chi ucciso Per la fede in Gesù Adesso c'è un nuovo presidente È stato eletto un nuovo presidente Che si pensa che sia più aperto E di fatti Si è preparata una lettera Hanno preparato quelle di Porta Aperte Una lettera da inviare Al presidente della Nigeria Che parla di tolleranza religiosa Affinché si possa porre fine A questo massaco Che si fa delle chiese cristiane Ok? Quindi siccome c'è questo foglio Che ce l'ha Giona E chi vuole può Anche mandarlo Al presidente della Nigeria Quindi vi rivolgete Alla fine del culto Chi è interessato Si può rivolgere A mio figlio Giona Ok? Lui ha portato delle copie E poi parlate con lui Ok Allora Andiamo alla parola di Dio Cosa devo dire più? Devo dire qualche altra cosa? Dimentico qualcosa Qualcuno che No Io stasera voglio parlarvi Di un soggetto Vi dico com'è nato questo Mercoledì Venerdì Sapete che c'è Il gruppo di Campofranco Fratelli e sorelle di Campofranco E quindi sono stato A casa della sorella Marisa Giovanna Abbiamo fatto il culto lì E sapete Ogni volta prepararsi qualcosa Non è sempre facile Ma tante volte Convido pure nel Signore Che sul momento Mi dà una parola E mi ha dato una parola Che mi è piaciuta tanto A me Che l'ho voluta Elaborare E condividerla Con tutta la Chiesa Quindi parlerò di ciò Che ho parlato venerdì Un po' Ma lo allargherò Che l'ha stato In dieci minuti Quindi qua io devo predicare Due ore e mezzo Quindi ne abbiamo Di allargare Quindi era Il tema era La vita E parlerò sulla vita Stasera Perché la vita È importante Ok Se leggiamo La scrittura Nel Vangelo di Giovanni A capitolo 1 È scritto così Nel principio Era la parola E la parola era presso Dio E la parola Era Dio Egli La parola Era nel principio Con Dio Tutte le cose Sono state fatte Per mezzo di Lui La parola Cioè Gesù E senza di Lui Nessuna delle cose fatte È stata fatta In Lui era Che cosa? La vita In Lui Diciamolo insieme In Lui era la vita E la vita Era la luce degli uomini Quindi la vita di Dio Cioè significa Radia Illumina E la luce Risplende Nelle tenebre E le tenebre Non l'hanno compresa Vi fu un uomo Mandato da Dio Il cui nome era Giovanni Questi venne come testimone Per rendere testimonianza Alla luce Affinché tutti Credessero Per mezzo di Lui Egli non era la luce Ma fu mandato Per rendere testimonianza Della luce Egli La parola Era La luce Vera Che illumina Ogni uomo Che viene Nel mondo Qui mi viene in mente Qualcosa Quando dice la Bibbia Nessuno è scusato Riguardo alla salvezza Perché Dio In un modo o nell'altro Cercherà di illuminare Ogni uomo Che viene nel mondo Egli la parola Era nel mondo E il mondo Fu fatto Per mezzo di Lui Ma il mondo Non lo ha conosciuto Egli è venuto In casa sua E i suoi Non lo hanno ricevuto Ma a tutti coloro Che lo hanno ricevuto Egli ha dato L'autorità Di diventare Figli di Dio A quelli cioè Che credono Nel suo nome Qual è il nome? Gesù I quali Non sono nati Da sangue Né da volontà Di carne Né da volontà Di uomo Ma sono nati Da Dio E la parola Si è fatta carne Ed ha abitato Tra di noi E noi abbiamo Contemplato La sua gloria Come gloria Dell'unigenito Proceduto dal Padre Piena di grazie E di verità Giovanni Testimonio Guarda dice Giovanni Testimonio E gridò Dicendo E come dice E gridò Ardeva dentro Dicendo Questi E colui Del quale Dicevo Colui che viene Dopo di me Mi ha preceduto Perché era Prima di me E noi tutti Abbiamo ricevuto Dalla sua pienezza Grazia Sopra grazia Poiché la legge È stata data Per mezzo di Mosè Ma la grazia E la verità Sono venute Per mezzo di Gesù Cristo Nessuno Ha mai Visto Dio L'unigenito Figlio Che è nel seno Del Padre È colui Che ce lo ha Fatto conoscere Che bella parola Questo è il principio Della salvezza Fratelli miei Nel principio È il principio Della nostra storia Di cristiani Di redenti Ma è il principio Anche per ogni Persona Che viene nel mondo Affinché possa ricevere La salvezza Ora diciamo In lui In Gesù Abbiamo letto Che c'era la vita È vero In lui era la vita Sin dall'eternità E questa vita Non è che è venuta meno Ancora è in Gesù Amen Quindi la vita è lui Ma vedete Nel concetto umano Della vita C'è qualcosa Che è un po' Distorto Dal vero concetto Della vita Narrato dalle scritture Difatti La vita Sapete Sulla terra Tanti dicono Certoni dicono Mi ricordo Quando ero giovane C'era una persona Che mi diceva Io faccio la bella vita Perché si divertiva Perché faceva Quello che gli piaceva Dice Ma è che bello Fa bella vita Un altro diceva Ricordo Quando ero sempre giovane Diceva Ora se non sei più giovane Sono giovane Ma non sono più giovane Come una volta Dicevo questo proprio A mia moglie Non siamo più giovani Come una volta Per non dire il resto Allora E c'era una persona Ricordo Che cercava di sistemarsi Ad ogni costo Sapete Con le raccomandazioni Trovare un lavoro Cercava diarsi da fare In mille modi E poi ci riuscì Alla fine Entrò alle poste E quando lo incontrai Mi disse Sai che mi sono sistemato Ora sì che posso fare a vita Mi fa Dice così Ora sì che posso fare a vita Perché Dico Ma cosa andrai a fare La dente Niente Non vado a fare niente Mi sono sistemato Questo è il concetto Di vita Tante volte Vedete Fare la bella vita E si pensa Che sia vita E per certi versi Lo è Ora vedremo poi Perché c'è una vita Nella luce E c'è una vita Nelle tenebre Abbiamo parlato Di luce e di tenebre Abbiamo letto E sono due tipi Di vita diversi A volte ci sono problemi Che dicono Ci sono persone Che dicono Invece io non vivo Perché sono sempre pieno Di problemi Ascoltiamo pure queste cose Vero Non vivo più Perché sono sempre Piena di problemi Invece è una vita Piena di problemi Anche quella è una vita È vita Quando non ci si hanno problemi È vita Quando si hanno problemi È vita Quando le cose vanno bene Si vive Quando le cose Anche vanno male Sapete chi non hanno più problemi E non hanno più la vita Coloro che muoiono Quelli non hanno più vita Ma finché siamo Su questa terra Dobbiamo Sappiamo Che ci sono Delle situazioni Che si creano Fanno parte Fanno parte della vita Quotidiana Della nostra vita Di ogni giorno Che possono essere A volte cose buone A volte possono essere Cose cattive A volte tragedie pure Avete visto cosa succede Per adesso O nell'immigrazione Persone che muoiono Allora non hanno più vita Quindi il concetto di vita Qual è in realtà Il concetto di vita In generale Tutto ciò che viene All'esistenza È vita Il problema Che ci dobbiamo porre È Ma che Tipo di vita è Ma che vita è Noi abbiamo letto Questa scrittura Che la parola Era La luce vera Illumina ogni uomo Il mondo fu fatto Per mezzo di lui Abbiamo detto Il mondo non lo ha conosciuto Coloro che l'hanno ricevuto Dall'autorità Di diventare figli di Dio Parla di tenebre pure Abbiamo letto La scrittura Questa scrittura Parla di luce e di tenebre Di due aspetti Della vita In realtà E c'è una connessione Tra le parole Che abbiamo letto Vediamo che c'è Gesù creatore Tutto è stato fatto Per mezzo della parola Abbiamo letto Gesù creatore E si parla di creazione Abbiamo visto pure Che Gesù È luce Che illumina Ogni uomo Che viene nel mondo Abbiamo visto pure Che ci sono pure Le tenebre E che le tenebre Non vogliono la luce Perché nel momento In cui arriva la luce Non ci sono più tenebre Poco fa abbiamo spento le luci C'era buio Quando accendiamo la luce Non c'è più buio Tenebre Non ci sono più Quando arriva la luce Ma le tenebre Non vogliono accogliere la luce Ancora abbiamo visto Che c'è il mondo C'è questa luce Che vuole squarciare le tenebre Vuole arrivare in mezzo alle tenebre Ma c'è pure La scelta dell'uomo L'uomo L'uomo decide Se diventare figli di Dio O no Dice la scrittura Abbiamo detto Ma tutti coloro Che lo hanno ricevuto Ha dato l'autorità Di diventare figli di Dio A coloro che ricevono Questa luce Che illumina ogni uomo Ma dice pure Che c'è una categoria Di persone Chiamata Che vivono nelle tenebre Che non l'accolgono E' venuta a casa sua E il mondo Non lo ha ricevuto Le tenebre Abbiamo letto Non l'hanno accolto Lo hanno respinto Ma c'è anche Una categoria di persone Che vede questa luce Fa spazio Nella propria vita Riceve questa luce E quanto riceve Questa luce Significa Riceve La rivelazione Di chi Dio è Alla fine abbiamo letto così Nessuno ha mai visto Dio L'unigenito figlio Che è nel seno del padre E' colui Che lo ha fatto conoscere Quindi quando arriva La luce Significa Arriva la rivelazione Di chi Dio è Affinché noi possiamo Diventare Suoi figli Non si nasce Figli di Dio Si diventa Figli di Dio Ed è una scelta Individuale A volte si pensa Ma tutti siamo Figli di Dio Tutti siamo Creature di Dio E Dio ama Tutte le creature E vuole illuminare Ogni creatura Che arriva sulla terra Anzi Vi dico di più La illumina Gli dà questa rivelazione Affinché possa ricevere La rivelazione Di chi Dio è Ma non tutti Decidono di fare Questo Significa Che cosa è la luce Che illumina Ogni uomo Gesù è venuto E cosa ha fatto Per illuminare E fare conoscere Il padre Ha parlato Del regno Di Dio Del padre La luce Significa L'Evangelo L'annunzio Dell'Evangelo È la luce Che arriva In ogni uomo Però ci sono uomini Che vivono Nelle tenebre Così come noi stessi Abbiamo vissuto Nelle tenebre Sapete quante volte A me avevano parlato Di Gesù Mi avevano cercato Di illuminare E le mie tenebre Hanno respinto Hanno chiuso Le porte E non diventavo Figlio di Dio Così noi Quando parliamo Come questa sera Parliamo di Gesù In realtà Stiamo illuminando Irradiando La luce del cielo Sopra di noi Amen Ma ci sono persone Che accettano Che accolgono Ci sono persone Che respingono La rivelazione Di Dio La Bibbia Abbiamo visto In queste scritture Ma in tante altre scritture Fa Distingue Due tipi di vita Quindi Una vita Sotto le tenebre E una vita Sotto la luce Ovvero Illuminata Dalla luce Di Dio E noi Dobbiamo sapere Queste sono Due tipi di vita Diverse Premesso Che Dio È creatore Della vita Perché Dio Abbiamo visto Ha creato la vita Quindi ogni persona Che arriva sulla terra Significa È creato da Dio Tutti Tutti quanti Buoni e cattivi Perché si diventa buoni E si diventa cattivi Crescendo Non si nasce Buoni e cattivi Ok Dipende dalla cultura Dall'educazione Della famiglia Dal contesto social Da mille altre cose Anche da fattori genetici Tante volte Però in realtà Si diventa Buoni o cattivi Quindi Dio è creatore Della vita Però è pure vero Che la vita Sotto le tenebre Non è il tipo Di vita Che Dio All'origine Ha creato Possiamo immaginare Adamo Quando fu creato Adamo non aveva tenebre Adamo conosceva Dio Adamo era sotto La luce di Dio Adamo passeggiava con Dio Parlava con Dio Poco fa Era sotto la luce Era sotto la luce di Dio Non c'erano tenebre Le tenebre erano Da un'altra parte Allora cos'erano Le tenebre Le tenebre erano Un tipo di vita Alternativo Alla vita di Dio Ed è quello che vediamo Sulla terra Tra noi oggi Ci sono due tipi di vita La Bibbia li distingue Tra la Chiesa E il mondo È vero? Dice Gesù Nella preghiera sacerdotale Io non sono di questo mondo La mia Chiesa Loro Non sono di questo mondo Io anzi Dice Li ho tolti dal mondo Che significa mondo? Mondo significa Persone Creature Che sono Vivono Un tipo di vita Alternativa Alla vera vita Che è la vita di Dio Ed è la vita Sotto le tenebre Qualcuno potrebbe dire Ma perché Dio ha creato Luce e tenebre? Molto e valga È solo la luce E non creava le tenebre? Perché dobbiamo sapere Quando l'uomo È stato creato Le tenebre c'erano Eh? Non è che non c'erano Le tenebre Come possiamo intuire Noi che c'erano Le tenebre? Quando Dio Disse ad Adamo Tu puoi fare Qualsiasi cosa Sulla terra Ti do dominio Io passeggio con te Avrò comunione con te Ti starò sempre vicino Possiamo parlare Se hai problemi Parla con me Io ti dico Tu puoi Addirittura Ti do la delega Della creazione Nel senso che Le cose che diceva Dio li creava Quindi era una dela Con una rappresentanza Popola la terra Però disse una cosa Però sta attendo Alle tenebre L'albero della conoscenza Del bene e del male Lì c'è un altro Tipo di vita Che è alternativo Alla vera vita E la vera vita C'è solo in Dio Non c'è nelle tenebre Là c'è un tipo di vita Alternativa Che produce morte La vita di Dio Produce vita E vita in abbondanza E vita eterna Quindi Perché la luce è tenebre Perché Dio ha fatto La luce alle tenebre Dicevo Poteva fare solo la luce Non c'erano più Nessun problema Qualcuno dice Ma il Signore Non potiva creare Solo Un diavolo Un nucleava Un gero Diavolo È vero Qualcuni dicono così Perché tutto questo Perché Dio Semplicemente Non ha fatto robot Le persone che ha creato Le ha creato Liberi di decidere Dio non voleva avere Comunione con Giacomino Con Gerlando Con Giovanna Per dire Io ti costringo Ad avere comunione Con me Devi stare per forza Con me Voleva che L'ho fatto libero Di scegliere Di stare con lui E di non stare con lui Ecco perché le tenebre Le tenebre La luce e le tenebre Rappresentano i due tipi di scelta Che ogni persona Può fare Può scegliere di stare con Dio Ma può scegliere Di stare da un'altra parte Vivere senza Dio Ecco perché le tenebre Di fatto l'uomo scelse Adamo scelse Allora Viveva con Dio Era nella luce Scelse di andare Verso le tenebre Tutti sono andati Verso le tenebre In Adamo Ma un giorno Con la venuta di Gesù Egli è venuto in casa sua Egli è venuto in casa sua Egli è sceso sulla terra E a tutti coloro Che lo accolgono Tuttora Ancora oggi Attraverso l'annuncio Del Vangelo Tutti coloro Che lo accolgono Diventano figli di Dio Significa Rinunciano alle tenebre Questa volta E scelgono di andare Verso la luce Con Dio Processo inverso Ma è una scelta Dio non si impone A me piace dire Dio non si impone Dio propone Altrimenti sarebbe Un'imposizione E io non conosco Un Dio così Non conosco Un Dio che ti dice Ah tu devi fare Come ti dico io Queste Lo pensano Le persone Che non lo conoscono Ma noi L'abbiamo conosciuto Perché abbiamo creduto In Gesù Nell'unigenito Figlio di Dio Mandato qui sulla terra L'abbiamo ricevuto E allora Abbiamo la conoscenza Di chi Dio è Di chi è il padre Che bello questo Queste sono rivelazioni Fratelli miei È la rivelazione Della parola di Dio Questa è l'illuminazione Questa è luce Capite? Che arriva Ancora vediamo Che tutti gli uomini Vivono Ma esistono queste due Categorie di persone Di cui parlavo prima Quelli che vivono Senza Dio Al di là di come vivono E quelli Che hanno ricevuto Invece L'illuminazione La rivelazione La rivelazione È la vita di Dio La parola È colui Che ce l'ha fatto Conoscere Dice la scrittura Ci ha fatto Conoscere Chi è Dio Abbiamo letto Conclude così Questa scrittura Che abbiamo letto La parola È colui Non è La parola È colui Cioè si riferisce a Gesù Che ce l'ha fatto Conoscere E questa conoscenza Ha prodotto in noi Vita Qual è la rivelazione Affinché si possa Vivere la vita di Dio La vita con la luce È semplice Non è difficile Perché la portate tutti Dio illumina ogni uomo Quindi significa Che Dio illumina ogni uomo Che viene all'esistenza Significa Che illumina Tutti coloro Che sono Testoni Scienziati Astronauti Che arrivano Persino sulla luna In altre parti Quelli che Sono ingegneri Avvocati Quelli che sono Molto istruiti Ma anche Coloro che non hanno Nessuna istruzione Persino Qualora che non hanno Sono analfabeti Dio arriva a tutti Perché Dio è creatore Di tutti Quindi Dio in un modo Nell'altro Parla a tutti E la rivelazione Di tutti Arriva E arriva per tutti E questa rivelazione Dio vuole che noi La teniamo cara Stretta a noi Perché Se noi teniamo stretta Questo tipo di rivelazione Non saremo confusi Nel mentre viviamo Qui in questo mondo Perché in questo mondo Sebbene Noi abbiamo ricevuto La rivelazione Di chi Dio è Sebbene Abbiamo ricevuto La luce Per certi versi Noi di riflesso Siamo luce Del mondo Come dice la scrittura Così come la luna È il riflesso Del sole Per illuminare la terra Così noi siamo Il riflesso di Cristo Per illuminare Coloro che vivono Nelle tenebre È semplice Per tutti È semplicemente Ricevere luce Significa Fede In Gesù A coloro Che l'hanno ricevuto Ma che significa Letteralmente Praticamente Fede in Gesù Certi mi dicono Quando parliamo di Gesù Dicono Ma io ci credo in Gesù Vi dico una cosa Io Sinceramente Allora C'è chi chiude C'è chi apre C'è caldo La cosa è la fede in Gesù La fede in Gesù Non è soltanto Un mero Credere Con la mente Che Gesù È venuto Duemila anni fa Io vi dico la verità Quando io non credevo In Gesù Non credevo in Dio Più esattamente Però credevo Che storicamente Gesù era venuto Qui sulla terra Ma questo non produceva In me nessun effetto Nella mia fede A te o ero E a te o rimanevo Così tante persone Sebbene magari Vanno in chiese In chiese tradizionali E ce ne dicevano Anche in chiese protestanti Non dobbiamo Toglierci dal mucchio Neanche noi Sebbene si può andare In chiesa E magari si dice Ma ci credo in Gesù Ma credere in Gesù È qualcosa di più Soltanto credere La Bibbia dice Che anche i demoni Credono in Cristo Però non lo seguono Perché la vera fede A che vedere Può ricevere Gesù Come Signore e Salvatore Della propria vita E poi seguirlo Fare la sua volontà La vera fede È credere Che Gesù È venuto sulla terra È morto Per il peccato Di Adamo Dove noi Eravamo inseriti Nel peccato di Adamo È morto quindi Per noi Togliendoci la morte Dalla nostra vita Per darci vita Crederlo Questa è rivelazione E quando abbiamo creduto a questo Allora poi siamo decisi A dire Signore io ti conosco adesso So che è veramente Dio Non ti lascio più Costi quel che costi A volte ce la possiamo passare bene A volte male Ma la fede Non viene mai meno Amen Questa è la nostra fede in Gesù Non è soltanto credere Credi che Gesù è venuto Due mila anni fa Se domandate Vi dico una cosa Qua non ci sono demoni Ma se andiamo fuori E incontriamo qualche demone E diciamo Senti Demone della Di che cosa Della magia Senti Ma tu ci credi che c'è Dio Sapete cosa dice Dirà Ci credo Mi tremo Però non lo seguo La Bibbia dice questo Che i demoni credono E tremano Perché sanno che esiste Veramente Dio Ma sono contro Dio Sono tenebre Non vivono la vita di Dio Capite Vivono al di fuori Della vita di Dio Così ci sono tante persone Che dicono Sì ci credo Però E Dio dov'è Però Dio si fa fatti i suoi E nel cielo A me non mi ha fatto mai Del bene Anzi Avete visto Quando i bambini Muoiono nel mondo Di chi è la colpa Di Dio è la colpa Avete visto Hai visto cosa succede Per adesso Con tutta questa immigrazione E Dio cosa fa Dio si resta così Guarda dal cielo E si diverte magari E che Dio è questo Non hanno la rivelazione di Dio Perché chi conosce Dio Sa che Dio è amore Che Dio ama le persone E che Dio da dove può intervenire Interviene per fare del bene Mai per fare del male Questo è il nostro Dio La rivelazione Perché Dio è la vera vita Quindi le tenebre Una vita alternativa Abbiamo detto La vita sotto le tenebre A volte può essere bella Anzi a tanti piace Piace molto la vita sotto le tenebre Vi dico di più Può essere bella A volte può essere brutta Ma non è la vita di Dio E il destino Sarà l'inferno Guardate cosa dice Il Salmo 49 verso 16 Dice così Non temere Quando uno si arricchisce Quando la gloria Della sua casa Aumenta Perché La prossima Se la passa bene Non gli manca nulla Che persone distinte Onorate da tutti Sono messi in alto Ma sono senza Dio Perché dice così Quando la sua gloria Della sua casa Aumenta Perché quando morirà Perché si muore Quando morirà Non porterà nulla con sé La sua gloria Non scenderà dietro di lui Non se la porterà Dall'altra parte Tutto quello che ha conquistato Anche se in vita Egli si riteneva felice La gente infatti Ti loda Quando tu prosperi Dice Ah come se la passa bene Non gli manca nulla È onorato Avete visto Quando passa lui A volte Se le dava una coppola No? Ora magari Svagiano un baciamano Ora magari Dottore Eccellenza Avvocato Professore Vero? Avete visto queste cose? Anche se in vita Egli si riteneva felice La gente infatti Ti loda Quando tu prosperi Egli raggiungerà La generazione Dei suoi padri Cioè se ne andrà pure Che non vedranno Mai più La luce Mamma mia Terribile L'uomo che vive Nelle ricchezze Senza avere intendimento È simile Alle bestie Che periscono Sono paragonate Alle bestie Che hanno Un inizio Una fine Poi scompaiono Per sempre Non vivono Nella luce E chi non vive Nella luce Mentre è sulla terra Non viverà Nella luce Quando se ne andrà Da questa terra Questa vita Delle tenebre Un'altra In Matteo 16-26 Dice A che serve All'uomo Ve lo ricordate questo? Guadagnare Il mondo intero Se poi perde La sua anima Dopo aver guadagnato Tutto il mondo Perde poi L'anima sua O che darà L'uomo In cambio Dell'anima sua Non si può guadagnare Significa la luce Non si può guadagnare La salvezza E non si può vivere Soltanto per una vita Fine a se stessa Questo è vivere Che si viva bene Si può vivere Benissimo Ma se non si ha La luce di Dio Si sta vivendo Nelle tenebre La vita illuminata Invece la vita Della rivelazione Per chi riceve Gesù nel proprio cuore Che lo vuole seguire Veramente Di vero cuore Può anche questa Come quella Nelle tenebre Che viviamo tutti In questo mondo Può essere a volte Bella A volte può essere Dolorosa invece Ma è la vita di Dio E la vita di Dio Vedete in noi L'illuminazione La rivelazione Ci fa discernere Ci fa intravedere Come stanno le cose Per non entrare Nella disperazione O per non gloriarci Dicendo Ah come sto bene Qui sulla terra Perché sappiamo Anche noi Che siamo tutti Di passaggio Un giorno Ci andremo Da qui Io sono contento Quando dico Un giorno Me ne vado da qui Dice Ma Proverai dolore E non lo so Forse sì Forse no Ma finirà Perché chi ha ricevuto La rivelazione Chi ha ricevuto La vita di Dio Chi ha ricevuto La conoscenza di Dio Chi ha sperimentato Ha ricevuto Gesù Nella propria vita Bene Vive Gioioso In questa terra Affronterà le difficoltà Di questa vita Sì ma Lui sa E dobbiamo sapere Non dobbiamo mai perdere di vista Che andiamo incontro A qualcuno Che dobbiamo incontrare È Gesù E come dice L'apostolo Paolo Che vivo O che muoio Me ne frega Un cavolo L'importante Che arrivo A destinazione Al mio salvatore Paolo non disse Me ne frega Un cavolo Ho paraprasato Un po' io Ma se l'avrebbe usato Il linguaggio di oggi Avrebbe detto così La vita Vedete La vera vita Quella che si vive con Gesù Che significa Allora ci dobbiamo No dobbiamo essere gioiosi Perché noi abbiamo ricevuto Lo Spirito Santo E lo Spirito Santo Il frutto dello Spirito Dice che è amore È gioia A volte Anche nelle difficoltà Dice certe volte Arrivano Le cose negative Nella vita E non sappiamo a volte Come affrontarle Però ci mettiamo Un attimo davanti al Signore Preghiamo il Signore Stiamo davanti a Lui E comincia a entrare Una pace dentro di noi Perché il frutto dello Spirito È anche pace E cominciamo a provare Una gioia Che è soprannaturale E qualcuno ti può dire Ma come fai Tu a essere tranquillo Sereno Con tutte quelle cose Che ti stanno succedendo E io ho il Signore dentro di me Altre persone sarebbero disperate A questo punto Tu invece Ti vedo sereno Perciò il dolore C'è una sofferenza Ma c'è anche la pace Del mio Dio Nella mia vita La vera vita di Dio È questa Ricorda Tenebre Dicevo questo A Campofranco Dicevo una cosa Molti sono concentrati Sul tipo di vita Delle tenebre Purtroppo Vi confesso a volte Anche ai credenti O in parte ai credenti Sono trascinati Dal modo di vivere Dal modo di pensare Delle tenebre Anche se sembra Dice è tenebra Tutto quello Che non ha a che vedere Con Dio è tenebra E vedete E qualcuno A volte non distingue Ciò che è la vera vita La vita di Dio Dalla vita del tenebrosa A volte C'è confusione E come dicevo Venerdì Come il vero Con il falso Sapete Se c'è il falso E perché c'è il vero Perché Non ci può essere Solo il falso Di per sé Perché si fanno Le banconote false Perché ci sono quelle vere Se non ci sarebbero Le banconote vere Non si farebbero Neanche quelle false Quindi quando c'è il falso Sta a indicare C'è anche il vero Dall'altra parte Così anche La vita delle tenebre Vedete La vita delle tenebre Certi prosperano E dicono Ah io me la passo bene Io faccio questo Io faccio quell'altro Lo fanno senza Dio E questo Ci deve fare anche pensare Per dire che c'è Un tipo di vita alternativa Che è la vera vita Che è la vita di Dio E a quella noi ci dobbiamo concentrare In quella direzione Dobbiamo andare Come possiamo farlo Qualcuno può dire Noi abbiamo Noi abbiamo Perché Gesù non ci ha detto Adesso che mi riceve Ognuno segue la sua via E la via di Dio No Dio ci ha lasciato Gesù ci ha lasciato Invece delle bussole Delle indicazioni L'illuminazione L'illuminazione è anche quella La parola È vero? La parola si è fatta carne Gesù è la parola Ma ci ha lasciato pure La parola Che è la Bibbia Che là ci sono le indicazioni Per discernere E distinguere Il vero Dal falso Il bene Dal male Le tenebre Dalla luce E la Bibbia dice Vi ricordate Che comunione ci può essere Tra le tenebre E la luce È come se volessimo fare comunione Tra Cristo e Belial Il diavolo Metterle insieme Che comunione c'è Tra Cristo e il diavolo Nessuna Gesù disse al diavolo Tu non hai nessuna parte in me Chiaro Non abbiamo nulla A che vedere noi due C'è una distinzione netta C'è una voragine Non ci possiamo mai giungere Il diavolo ci provò A fare un po' di comunione Nel senso che Lo tentò nel deserto E gli angeli Dì a queste pietre Che diventino pane Tu lo puoi fare Buttati dal cielo E gli angeli verranno E ti sosterranno Era persino scritto nella Bibbia Pensate E Gesù ha detto Vattene via da me Sattene che c'è tra me Non abbiamo nulla a che vedere Tu sei tenebra Io sono luce Vedete Noi possiamo distinguere Queste cose come cristiani E non solo possiamo distinguerle Perché abbiamo La luce della parola di Dio Possiamo distinguerle A volte sapete I cristiani vengono confusi Perché non si affidano Alla luce della parola Quando la parola ti dice Di perdonare Tu non perdoni Quando la parola ti dice Di amare Tu non ami Quando la parola ti dice Se ti hanno fatto un torto Tu fai del bene Quando la parola ti dice Tendi la mano sempre Quando la parola ti dice Cammina in pace Con tutti gli uomini Quando la parola ti esorta A fare tutte queste cose E tu non le fai Stai facendo comunione Con le tenebre Ma non solo Dobbiamo distinguere Luce da tenebre Dobbiamo distinguere Noi abbiamo la possibilità Di distinguere Perché abbiamo la sua parola Non soltanto Ma noi stessi Dobbiamo illuminare Nelle tenebre Gesù disse Con questo andiamo Verso la fine Come il Padre Ha mandato me Così io mando voi Andate in tutto il mondo E predicate l'Evangelo Fate discepoli Battezzandoli Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo La gloria Che il Padre Ha dato a me Io la do a voi Non era la gloria Quella che va nella fossa Era la gloria Che viene dal cielo E quella Ce la possiamo portare Sempre dietro Non ci sarà Muro di morte umana Che ci potrà impedire Di portarcela Ancora oltre Perché noi E la gloria Che viene dal cielo Non è una gloria umana Come il Padre Ha mandato me Io mando voi Andate e predicate Chi crederà Sarà salvato Chi non crederà Purtroppo sarà condannato Ma voi siete La luce del mondo Il sale della terra E noi dobbiamo Significa Dobbiamo assolvere Al compito Che Gesù ha avuto Mentre era qui sulla terra Quello di annunciare L'Evangelo Andare E vedere le persone E invece di provare Il sdegno delle persone Che a volte diciamo Guardiamo certe persone Che schiva Ma guarda A volte diciamo Ci facciamo Abbiamo dei pregiudizi A volte diciamo Però se lo merita Il male Questa persona È vero? Gesù non ragionava così E lui La luce non ragiona così Noi siamo luce E non dobbiamo ragionare così Gesù invece Sapete cosa dice la Bibbia? Che andava attorno Per città E villaggi E vedeva le persone E li vedeva Come pecore Senza pastore E dice E ne provava Compassione Ciò che Dio vuole Che noi proviamo Quando sentiamo certe cose E sentiamo Al telegiornale Sentiamo Nella nostra città Nelle famiglie A volte Non dobbiamo provare Sdegno Rebrezzo Noi dobbiamo essere sdegnati Solo dal peccato Che ci vuole tentare Da quello sì Ma delle persone Noi dobbiamo provare La Bibbia dice Compassione E quando proviamo Compassione Ci possiamo prodigare Per cercare di fare Qualcosa per loro E Gesù cosa faceva? Andava Andava lì Andava in mezzo a loro E insegnava loro E parlava loro Cosa gli parlava Gli diceva Eh, care persone Voi siete ladri Malfattori E l'inferno vi aspetta No, non diceva questo Gesù Gesù gli diceva Guardate Dio vi ama Io vi amo pure Sono qui per voi E io voglio darvi Una soluzione Alle vostre problemi Alle vostre difficoltà E la soluzione È la luce Lasciatevi illuminare Dio vuole Vuole avere comunione con voi Vuole stare con voi ogni giorno Non vuole stare lontano da voi Dio vi ha sempre amato Vi ha tanto amato Che io sono sceso in mezzo a voi E sono qui per voi E quando vide quel Quel pubblicano lì sull'albero Zaccheo Che parla lì Qualche settimana fa Che era un ladro Di prima categoria Un estortore Vide la luce E quando vide la luce Dice ma che è sta luce? Che è sta luce? E quando Gesù Passò di sotto l'albero Dice Zaccheo Scendi Oggi venga a mangiare A casa tua A casa mia E tutti gli altri Ma lo sa chi è questo? Lui non se lo merita Che tu vai a mangiare A casa sua Lui non si merita Di avere la visita tua Lui non si merita Neanche di avere Come si dice? Il tuo saluto La tua parola Verso di lui Perché lui è un pubblicano Vi ricordate quella prostituta? Cosa provo a Gesù? Quella donna Quanto dietro Vide la luce E disse Signore io voglio stare vicino a te E tutti Si indignano Non sa Si fa toccare Un rabbi Che si fa toccare Da una prostituta Un rabbi Un rabbi Non si poteva Era immacolato Era stato attento Il stato lontano Da me Non toccatemi Che sono santo Questo era il rabbi Il concetto del rabbi Il distacco Con totale Dal popolo Dalla gente Qualunque Gesù cosa fece invece? E tutti Si mormorarono Il padrone di casa Se lui sapesse Chi fosse questa donna Si vede che non è un rabbi Gesù invece disse A Simone Simone Il padrone di casa Che era un sacerdote Un rabbino Dice io sono venuto a casa tua E tu non mi hai dato L'ospitalità Che di solito si dà Agli ospiti Che generalmente L'ospitalità era quella Di pentere la bacinella E dire Ti laviamo E lavati i piedi Era un senso di ospitalità Perché là le strade Erano molto polverose Si camminava con i sandali A volte scalzi Era un senso E lui Disse io sono venuto a casa tua E Gesù andò anche a casa di Simone Dal sacerdote E tu non mi hai Neanche Non mi hai dato un bacio Non mi hai dato L'acqua per lavarmi i piedi Questa donna Mi ha lavato i piedi Con le sue lacrime E non ha smesso Di baciarmi i piedi Questa è la luce Che illumina ogni uomo Questa è la luce Che dobbiamo irradiare Verso le persone perdute E non provare Rancore Per nessuno Non provare rabbia Queste cose Non sono luce Sono tenebre Noi abbiamo lasciato Le tenebre E dobbiamo imparare A vivere nella luce Fratelli La cena del Signore Ci insegna Vedete Stasera celebriamo La cena del Signore La cena del Signore Ci insegna Con il pane Con il vino Ci insegna queste cose Di cui abbiamo parlato Ci sta dicendo Che siamo nella luce Ci sta dicendo Che dobbiamo vivere Nella luce Ci sta dicendo Che dobbiamo Non dobbiamo vivere Con il modello Tenebre Ci sta dicendo Che dobbiamo Vivere con un altro modello Perché sarà Quel modello Della luce Che convincerà Le persone E se non le convincerà Noi abbiamo proposto Non possiamo imporre Amene Ci alziamo in piedi Gloria Gesù Alleluia La cena del Signore Ci dice che Gesù È morto Per queste cose Lui è morto Affinché Si assorbisse Lui le tenebre E la luce Potesse arrivare a noi E noi stessi Diventassimo Prendendo di questo pane Luce Amen Alleluia Gloria a Gesù Il Signore Gesù Quella notte Presse il pane Era assieme ai Suoi discepoli Così era come Siamo noi Siamo un po' di più Loro erano dodici Allora E lui lo fece con i Suoi Prese il pane Lo spezzò Lo diede ai Suoi discepoli E disse Prendete e mangiatene tutti Fate questo in memoria di me Non dimenticate Che la luce È venuta nel mondo Non dimenticate Che la mia luce È arrivata Nella vostra vita Voi non siete più Tenebre Siete luce E che dovete Prendendo di questo pane Voi state dicendo ancora Questa sera Che siete la luce di questo mondo Ognuno per parte sua Ogni pezzetto Per parte sua Ma voi siete luce del mondo E quando celebriamo la cena Dobbiamo ricordare Ancora Che siamo luce del mondo Prendete e mangiatene tutti Dice Gesù Fate questo in memoria di me Non dimenticate mai Finché io ritornerò Non dimenticate mai Ciò che io ho fatto per voi E ciò che voi siete diventati Allo stesso modo Dopo il pane Gesù prese il calice E versò del vino dentro E lo diede ai suoi discepoli Disse Premedete e bevetene tutti Questo è il calice Del nuovo patto Non più un patto A termine Ma un patto eterno Un'alleanza eterna Io sono vostro alleato E quando voi bevete dal calice Voi ricordate ancora Che siete sotto il mio patto Che io sono ancora per voi Io non romperò mai il mio patto con voi E voi siete per me Io e voi Un'unica cosa Io e voi e voi in me Dice Gesù E quando bevete Vi ricordate ancora Al di là delle circostanze della vita Al di là delle problematiche Che questa vita ci presenta Noi siamo ancora suoi Siamo ancora sotto il suo patto E il patto che ha fatto Gesù Non è un patto umano Ma è un patto eterno Un patto soprannaturale E il patto di Dio E il patto di Dio con gli uomini Prendete e bevetene tutti E non dimenticate Che io sono per voi E che nessuno può essere contro di voi Tutti quelli che sono battezzati in acqua Possono venire avanti Tra un po' E prendere il pane e il vino Fissa gli occhi a Gesù A Lui non distoglierli più E le cose del mondo Tu vedi svani E una luce di gloria appari Apri il tuo cuore a Gesù E lui il tuo Signor E' venuto a salvarti Morendo per te Ama e adora Gesù Fissa gli occhi a Gesù Fissa gli occhi E una luce di gloria appari Alleluia Alleluia Alziamo il pane E chi non ha il pane Può alzare la mano E diciamo insieme Signore Gesù Signore Gesù Io sono qui davanti a te Un giorno mi hai chiamato Mi hai chiamato dalle tenebre alla luce Questa sera prendendo questo pane Io voglio ancora ricordare Voglio ricordare che tu sei in me come luce E che io rifletto la tua luce Voglio ricordare che tu sei morto proprio per questo per me E che la vita che vivo Sono chiamato a viverla come luce per questo mondo Aiutami Aiutami Signore Sovvviene alle mie debolezze Aiutami nei momenti difficili Ma fa che possa rimanere luce Che illumina ogni uomo Mangiando questo pane Io ricordo ancora Questa sera Di appartenerti Che io sono in te Che tu sei in me E che io faccio parte del tuo corpo che è la Chiesa Ti ringrazio Gesù Amen Signore Gesù Bevendo questo vino Voglio ricordare il sangue che tu hai versato per me Affinché io entrasti nel tuo patto E poiché hai creduto Io sono entrato nel tuo patto Nella tua alleanza So che tu sei per me Che non mi lascerai mai Che io ti appartengo E bevendo da questo calice Io riconosco ancora questa sera Che il tuo patto in me È ancora efficace Sino ad oggi E per sempre Grazie Gesù Amen Grazie a tutti Senza neanche una parola Con il sangue Con il sangue Per te Per te Per te Per te Per rivivere Della morte E per te Per me E per te Per me E per te Che Dio ti benedica nella tua vita coniugale, che Dio ti benedica nella tua vita familiare, che Dio ti benedica nel tuo lavoro, che Dio ti benedica nelle tue relazioni sociali, che Dio ti benedica ovunque vai, che la benedizione di Dio sia sopra di te, ti insegua e sia sempre sopra di te. Che la benedizione di Dio ti illumini sulle decisioni che devi prendere ogni giorno, che la benedizione di Dio ti illumini, ti dia luce affinché tu possa discernere il bene dal male, che la benedizione di Dio ti illumini affinché tu possa decidere di fare la volontà di Dio in ogni istante della tua vita. Che la benedizione di Dio ti insegue, ti accompagni, ti avvolga, sia come un mantello nella tua vita, che sia come una sostanza nel tuo cuore, nel tuo corpo, nella tua mente, che sia come un vestito che è addosso. Che la benedizione di Dio sia sempre sopra di te, perché Dio ti ha scelto, perché Dio ti ha amato, perché Dio vuole stare con te, perché Dio ti ama di un amore eterno, perché Dio vuole avere comune con te sempre, perché Dio vuole stare nella tua casa, nella tua famiglia, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, perché Dio vuole stare all'interno di ogni settore della tua vita, nei tuoi pensieri e fuori dai tuoi pensieri. Che Dio ti benedica e con la benedizione di Dio. Vai, vai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a te Gesù. Gloria a te Gesù. Abbraccia un po' di persone che stanno accanto a te e benedicili. Diggli che sono importanti per te. Ci vediamo mercoledì e chiunque è disponibile faremo i lavori. La sua morte per rivivere. Stete fermo ad aspettare per te. La sua morte per rivivere. La sua morte per rivivere. La sua morte per rivivere. . Grazie per la visione!